adesso bambini tocca a voi è arrivato il momento della scelta sei scelto l'abito a fiori oh come mi piaccio sto proprio bene vero galino? molto carina la mia mamma mi ha raccomandato di fare bella figura col suo nuovo fidanzato perché a causa mia tutti gli altri sono scappati via tu piccola peste baby chat ma scusa era forse colpa mia se erano antipatici? bambini bambini qualcuno mi chiama adesso rispondo al telefono pronto? oh ciao mammina cosa mi dirà la mia mamma? bambini è arrivato il momento della scelta se fai la scelta giusta la puntata continua se fai la scelta sbagliata è game over scelta A oppure scelta B sono baby chat e sono una bambina tutto il giorno chat dalla sera alla mattina e tu? iscriviti al mio canale ne faremo delle belle rideremo a crevo a quelle iscriviti al canale Grazie a tutti.